buongiorno da obiettivo news oggi 8 settembre l'antività di maria si celebra oggi la giornata internazionale dell'alfabetizzazione ufficialmente proclamata dall'organizzazione delle nazioni unite per l'educazione la scienza e la cultura unesco in occasione della quattordicesima sessione della conferenza generale nel 1966 ogni anno l'appuntamento si propone di sensibilizzare la collettività in merito all'importanza dell'alfabetizzazione nella costruzione di società più sostenibili evidenziando nella natura di diritto umano nonostante si siano registrati progressi significativi nel corso degli ultimi decenni oltre 771 milioni di giovani adulti in tutto il mondo sono tuttora da considerarsi in alfabeti